Il sollevatore elettrico Una volta sbullonato vado a estrarre la ruota dal veicolo E la posso portare sullo smontagomme per fare il cambio gomma Una volta finito il lavoro e effettuata l'equilibratura Allo stesso modo torno sul veicolo, sollevo la ruota La vado a centrare col mozzo della vettura Una volta centrata con la vettura vado a infilare i bulloni Una volta bloccata la ruota Vado a estrarre il mio sollevatore Grazie 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 Grazie